Cari amici, eccoci al nostro incontro settimanale. Questa volta dobbiamo perdere qualche minuto all'inizio per dedicare qualche nostro pensiero a un somaro politico che ha ripreso a ragliare. Bene, ci saremmo risparmiati volentieri questa perdita di tempo, ma converrà pure dire qualcosa. Mi riferisco ad alcuni commenti che sono stati fatti dopo la festa dei tifosi del Napoli per la vittoria della Coppa Italia da parte degli Azzurri. Sono commenti che hanno portato alla luce una propensione sotterranea, incancellabile, allo sciacallaggio, perfino al razzismo nei confronti di Napoli, della Campania, del Sud, che pare difficile da estirpare. Pensate, verso mezzanotte ragazzi, tifosi del Napoli hanno fatto una manifestazione ai gioia per la vittoria della Coppa Italia. Un episodio che sarebbe successo nella stessa maniera in tutta Italia e in tutto il mondo. Sarebbe successa la stessa cosa. Voglio ricordare che in altre città del paese, penso a Torino, in occasione di una partita della Juve nella Champions, ci sono stati morti e feriti in piazza. A Milano, se avesse vinto l'Inter, avremmo avuto l'ira di Dio. Senza nessuna vittoria abbiamo registrato, lo hanno denunciato le autorità milanesi. Assembramenti, ai navigli, fenomeni di movida scapigliata, nel Veneto, a Vicenza. Mi sono arrivate immagini della movida a Vicenza, per la quale nessuno ha chiesto al governatore del Veneto che pensasse, che facesse. Sappiamo tutti quanti, almeno tutte le persone, che hanno buon senso che quello che è successo sarebbe successo dovunque, per una vittoria sportiva significativa. Ma, siccome è capitato a Napoli l'episodio, il cafone ha ritenuto di fare dei commenti. Bene, io credo che quel cafone politico abbia dimostrato di essere davvero tre volte somaro, non una volta sola. Primo, perché se uno organizza il 2 giugno a Roma una manifestazione in violazione di tutte le norme anti-assembramento, ed è non un giovane tifoso, ma un esponente politico segretario di un partito, se organizza quella manifestazione in totale disprezzo delle norme di sicurezza insieme con la vispa Teresa e poi si permette di aprire bocca, vuol dire che questo esponente politico ha la faccia come il suo fondo schiena, peraltro usurato. Secondo motivo di ciucciaria, direbbe Edoardo De Filippo, si fa un assembramento notturno e l'equino domanda al presidente della regione che dici. È giusto il caso di ricordare a questo somaro geneticamente puro che l'obbligo di garantire il rispetto delle norme nazionali riguarda il Ministero dell'Interno e il Prefetto, il Presidente della regione. Non c'entra niente. Non c'entra niente. Infine, siamo di fronte davvero ad atti di volgare sciacallaggio, perché se noi avessimo adottato lo stesso criterio di strumentalità, noi, Regione Campania, una regione che ha dato una prova, credo, straordinaria e riconosciuta da tutti di rigore e di capacità amministrativa e organizzativa. Se avessimo adottato lo stesso atteggiamento avremmo dovuto dire parole di fuoco nei confronti di altre realtà del Nord, di altri sistemi sanitari nei quali si sono registrati morti a migliaia. La regione Campania ha avuto come casi totali 4.615 casi di Covid. La regione che ha retto meglio al Nord, cioè il Veneto, ha avuto il quadruplo di contagi. la Lombardia ha avuto 20 volte più di contagi rispetto alla Campania. Per quanto riguarda le persone decedute, sempre il Veneto ha avuto 5 volte più deceduti rispetto alla Campania. la Lombardia la Lombardia 40 volte in più di deceduti rispetto alla Campania. Emilia e Piemonte si collocano a metà strada. Se fossimo stati sciacalli sulla base di questi dati avremmo scatenato una campagna di aggressione mediatica nei confronti di altre realtà del Paese. Ma noi diversamente dal Neandertal siamo persone civili e ribadiamo la nostra solidarietà ai nostri concittadini di altre parti d'Italia che hanno sofferto che hanno affrontato tragedie inimmaginabili guardando con spirito di coesione nazionale alle vicende dell'epidemia e ricordando però a qualcuno che ha la memoria corta che la Campania è stata la regione più rigorosa nel chiudere tutto quando c'erano le prime avvisaglie. Abbiamo avuto il coraggio di chiudere tutto 15 giorni prima rispetto alle decisioni prese dal governo nazionale o rispetto ad altre regioni quando noi chiudevamo tutto in altre parti d'Italia si continuava a ballare e a bere allora cari amici abbiamo perso fin troppo tempo presso a questi squinternati noi abbiamo l'orgoglio di aver salvato le nostre comunità i nostri concittadini con decisioni rigorose che abbiamo preso e che prenderemo ogni qualvolta sarà necessario per il resto per il resto per il resto senza farci rovinare le giornate dalle strumentalizzazioni io rinnovo i miei complimenti agli azzurri devo dire sinceramente che la Juve è apparsa davvero una squadra imbarazzante per certi versi non so come farà ad affrontare la Champions in queste condizioni onestamente i miei complimenti a Gattuso e poi se mi è consentito i miei complimenti doppi per aver dato una dimostrazione relativa alla bellezza del catenaccio nel calcio il catenaccio mettere in difesa non undici quindici venti pure i raccattapalle catenaccio meraviglioso ovviamente a condizione di avere una difesa solida e di avere poi due o tre giovanotti che hanno grande velocità per fare qualche contropiede il contropiede insigne Mertens con l'Inter è stato uno spettacolo indimenticabile una goduria indimenticabile catenaccio catenaccio e la bocconi del calcio 90 minuti di barricate poi non al novantesimo al novantunesimo una pappina nella porta avversaria non c'è godimento più grande non c'è godimento più grande noi ci prendiamo anche queste belle soddisfazioni questi momenti di goduria diversamente da un esponente politico sovranista a cui è capitato una volta di avere per una delle tante anomalie della storia una donna stupenda al suo fianco e passava le serate a mandare i tweet sui broccoletti il radicchio noi siamo fatti diversamente diciamo allora complimenti agli azzurri e mi si consenta anche di fare di rivolgere un in bocca al lupo ad altre tre squadre di serie B che riprendono il loro campionato il Benevento campionato straordinario la Salernitana Juve Stabbia in bocca al lupo a queste squadre che possano darci pure loro grandi soddisfazioni come è capitato in queste giornate di tormento e di gioia la cosa incredibile che quelli che si sono esibiti in atti di fariseismo hanno avuto il governo dell'Italia in mano c'è stato anche in questa settimana qualcosa di interessante davvero al di là del Neandertal in Campania finalmente abbiamo avviato al lavoro i primi 2.500 giovani che hanno vinto il concorso della regione Campania nell'ambito di un piano per il lavoro che punta a dare lavoro a 10.000 giovani della Campania un esempio unico in Italia un cammino tormentato siamo un paese nel quale anche per fare un concorso per dare lavoro ai giovani è un percorso di guerra siamo arrivati alla conclusione e oggi siamo davvero orgogliosi di poter avviare al lavoro dopo un anno di formazione che faranno 2.500 giovani ragazze e ragazzi che hanno vinto un concorso voluto e finanziato dalla regione Campania a questi 2.500 si uniscono ovviamente altre centinaia di giovani che vengono assunti a Lea ma nell'azienda di trasporto va avanti il piano economico sociale della regione Campania ci sono stati organi di informazione che hanno fatto paginate e fotografie enormi sulla festa dei tifosi e non hanno detto una parola su un piano economico sociale varato dalla Campania unica regione d'Italia quasi un miliardo di euro che ha portato a dare 2.000 euro alle micro imprese a darli cioè a farli arrivare sui conti correnti non a prometterli 1.000 euro a 60.000 giovani professionisti contributi importanti alle famiglie con bambini sotto i 15 anni alle famiglie con disabili di avere portato le pensioni al minimo per 230.000 anziani con le pensioni a 450 euro di aver portato queste pensioni a 1.000 euro per il mese di maggio e lo faremo ancora per il mese di giugno di aver varato provvedimenti per gli stagionali e il turismo per altre categorie colpite nel mondo del trasporto ai tassisti partono bandi anche per dare una mano agli albergatori ai gestori di bed and breakfast queste cose uniche in Italia non fanno notizia l'assembramento dei tifosi questa cosa è importante anche perché potremmo dare in questo modo delle indicazioni anche al governo nazionale le misure prese per dare una mano alle imprese alle famiglie agli anziani ai disabili agli operatori turistici e in atto voglio esprimere il mio apprezzamento una campagna promozionale della camera di commercio di Salerno sugli organi di informazione nazionali per valorizzare i beni ambientali del territorio potrebbero arrivare delle indicazioni anche al governo nazionale che come sapete è impegnato nei famosi stati generali io sto seguendo è una palla mi è sfuggita sto seguendo beh mi capita di sentire qualche telegiornale e sono obbligato a sentire comunque sia una delle cose che potremmo fare a livello di governo nazionale è un piano per il lavoro per i giovani del sud da mandare nella pubblica amministrazione l'ho proposto tre anni fa nell'indifferenza generale bene abbiamo dimostrato che si può fare prenda questo esempio il governo nazionale e così può dare concretezza agli stati generali che cosa dovrebbero fare questi stati generali la prima cosa utile è chiudere i battenti quanto prima perché non se ne può più secondo dovremmo tentare di definire un programma di governo non di buone intenzioni non di colloqui non di cerimoni per il sud per esempio piano per il lavoro per 300.000 giovani far partire subito i concorsi nella pubblica amministrazione per profili professionali come abbiamo fatto noi agevolazioni fiscali per chi viene ad investire nelle aree nelle zone economiche speciali del sud detassazione degli utili di impresa completamente cioè portare nel sud un po' il modello olandese obbligo rigoroso per le grandi aziende pubbliche di investire il 35% delle risorse negli interventi che riguardano il sud bastano queste tre cose che altro potremmo suggerire al governo nazionale c'è un'altra tematica la sburocratizzazione ne parliamo da decenni possiamo cominciare a fare qualche piccolo passo concreto noi dobbiamo ammodernare prendiamo questi piccoli suggerimenti che vengono da modesti artigiani della politica come siamo noi sicuramente non all'altezza degli stati generali potremmo stabilire si può fare in 24 ore che i pareri ambientali non debba più darli il ministero dell'ambiente ma una regione normalmente possiamo decidere si può fare in 24 ore che per rilasciare i pareri ambientali che riguardano l'escavo il dragaggio dei porti questi pareri debbano essere rilasciati in due mesi anziché in due anni facendo quello che accade il porto di Rotterdam possiamo ridefinire ne parliamo da anni le funzioni delle soprintendenze dividendo in maniera netta beni di valore nazionale e demandando agli enti locali ai comuni alle regioni gli altri pareri e sempre per tutti fissando come termine perentorio il termine dei tre mesi dei corsi i quali vale il silenzio assenso piccoli suggerimenti che però potrebbero servire a sbloccare l'Italia codice degli appalti in pochi anni ha avuto già tre cambiamenti se volete possiamo scrivervi due paginette di modifiche da apportare per rendere le gare per le opere pubbliche non un calvario ma un atto amministrativo normale sburocratizzazione possiamo cancellare il reato di abuso in atto d'ufficio vergognosamente introdotto nella legge Severino che paralizza la pubblica amministrazione italiana oltre che stabilire una vergognosa condizione di privilegio per la casta perché è una norma che vale per i funzionari pubblici per gli amministratori locali ma non vale per i ministri viceministri deputati e senatori una vergogna che tuttavia paralizza l'Italia piccole cose per le quali ovviamente non ci sarebbe bisogno di fare gli stati generali di riunire l'assemblea delle nazioni unite di convocare concili e conclavi basterebbe fare una chiacchierata di mezza giornata con un segretario comunale con un sindaco o con un amministratore che abbia dimostrato nella sua vita di saper produrre risultati oltre che parole si potrebbe fare un bell'intervento sul comparto scuola università formazione il reddito di cittadinanza ci costa credo 9 miliardi di euro ogni anno ogni anno cioè ci costa quanto costa l'università italiana io credo che dobbiamo tenere in piedi misure di sostegno al reddito e alle povertà ma credo che dobbiamo ragionare con rigore per evitare di sprecare miliardi a volte dando contributi anche a qualche camorrista e riversare una parte di questi soldi sul sistema universitario e scolastico cose semplici che si possono fare subito con decreti legge possiamo prendere in mano i programmi già ci sono in realtà ci sono anche in qualche caso progetti esecutivi per varare un grande piano di manutenzione del territorio del nostro paese e per riprendere in mano la gestione delle acque la gestione del ciclo dei rifiuti ci sono progetti esecutivi che potrebbero essere finanziati si potrebbe fare un censimento con le regioni e dare subito le risorse ora è del tutto evidente che queste sono cose semplici concrete e per questo motivo non si faranno non si faranno noi siamo un paese straordinariamente ricco di grandi statisti e straordinariamente povero di buoni amministratori e siamo un paese che non ha ancora capito che una democrazia è forte non per la quantità di parole o promesse che produce ma per la quantità di decisioni e di risultati che offre ai cittadini allora noi siamo oggi in questa situazione chi fra voi avrà pazienza potrà seguire fino alla fine gli stati generali se ci sarà se ci sarà alla fine qualche risultato concreto di questo lavoro di questi incontri abbiate la bontà di farmeli pervenire ho detto che questi stati generali mi sembravano la sessione conclusiva del concilio di Nicea ho la sensazione che avremo un documento finale che risolverà in maniera definitiva il problema della transustanziazione fra il padre e il figlio ma di concreto sarà difficile vedere atti però ci hanno detto che poi domani poi la prossima settimana poi a luglio poi a settembre e poi e poi e poi e poi nel frattempo nessuno dice una parola su quei nodi burocratici ancora fortemente presenti a Roma nelle burocrazie centrali dei ministeri dove continuiamo ad avere vecchi marpioni che prendono per i fondelli ministri spesso improbabili e marpioni burocratici i quali misurano i tempi dell'azione amministrativa non in giorni in mesi in anni come si aspettano le imprese le famiglie ma in epoche geologiche stanno ancora tutti lì a Roma impostazioni chiave dei ministeri del ministero dell'economia della ragioneria dello Stato voglio rivolgere un saluto affettuoso al ragioniere generale avrò modo poi di dedicargli un pensiero specifico per un'affermazione che ha fatto nell'ambito di un uno dei tanti comitati di allora siamo messi in queste condizioni venendo alla parte sanitaria che ci riguarda continuiamo a registrare in campania risultati interessanti ma non dobbiamo abbassare la guardia ai ragazzi che hanno fatto la manifestazione la festa dico la festa è finita adesso torniamo nei ranghi e dimostriamo senso di responsabilità da lunedì credo che la task force regionale renderà facoltativo l'uso delle mascherine all'aperto voglio chiarire bene questa storia delle mascherine rimarrà obbligatorio portare con sé le mascherine ognuno dovrà portarsi la mascherina rimarrà obbligatorio indossare la mascherina nei locali chiusi ma anche all'aperto quando si determinano affollamenti pericolosi penso alle passeggiate sui lungomari delle nostre città in quel caso siccome abbiamo migliaia di persone ragioni di prudenza rendono indispensabile l'uso della mascherina ovviamente quando si esce e non ci sono di questi problemi si potrebbe andare in giro senza la mascherina ma bisogna portarla con sé comunque non scherziamo non scherziamo e non immaginiamo per l'amor di Dio che abbiamo risolto tutti i problemi perché non è così nel frattempo abbiamo fatto una bellissima iniziativa di cui non si sono accorti tutti i farisei d'Italia la Campania è l'unica regione per quello che ne so io che ha fatto i tamponi a tutti i docenti membri delle commissioni d'esame per gli esami di maturità che sono in corso è stata credo una bella iniziativa su base volontaria a tutela dei docenti a tutela dei ragazzi a tutela delle famiglie un'ennesima prova di efficienza e di eccellenza amministrativa ci stiamo preparando a fare i tamponi a tutto il personale docente e non docente per quando aprirà la scuola per carità di patria non apro il capitolo della scuola che è stato il più massacrato in queste settimane e totalmente subordinato alle logiche della politica politicante non so come e quando aprirà l'anno scolastico di questo esprimiamo profonda gratitudine al ministro della pubblica istruzione devo dire che abbiamo rilevato in questi mesi due eccellenze assolute nell'ambito del governo alla pubblica istruzione e credo anche alla giustizia beh anche lì era difficile fare meglio abbiamo appreso dai giornali che erano a casa loro in poltrona alcuni capi della camorra si stavano rilassando il ministro della giustizia era impegnato ad aggiustarsi la pochette nel taschino della sua giacca sempre di due misure inferiori a quello che sarebbe necessario ma nel frattempo i grandi capi della camorra stavano a casa qualche grande capo dell'andrangheta della mafia pure qualcun altro si prendeva pure il reddito di cittadinanza e dai dai nan le parole le parole sono inadatte a descrivere questo mondo che abbiamo avuto la fortuna di conoscere mondo della scuola dunque ci stiamo preparando e ci stiamo preparando contemporaneamente a fare una campagna di vaccinazione per tutti i bambini e quando avremo il vaccino abbiamo già fatto la gara come regione campania per tutto il personale sanitario e per tutti gli anziani al di sopra dei 65 anni invitando ovviamente anche quelli al di sotto dei 65 a farsi quest'anno tutti la vaccinazione anti-influenzale per evitare che si confonda un sintomo influenzale con un sintomo di epidemia covid nel frattempo è partita credo la denuncia nei confronti di di quelli che hanno messo in piedi operazioni mediatiche sciacallesche oltre che somaresche per i falsi contenuti in alcune trasmissionacce proposte in questi giorni da emittenti pubbliche e da organi di stampa con calma falsi che riguardavano inesistenti commissariamenti falsi che riguardavano il numero di posti di terapia intensive realizzate falsi che riguardavano la presenza di bagni inadeguata ai pazienti falsi che riguardavano gare rivolte ai laboratori privati abbiamo fatto l'elenco di tutti i falsi contenuti nelle trasmissionacce ci auguriamo di poter avere anche consistenti risarcimento per il danno d'immagine che abbiamo subito ovviamente infine abbiamo presentato ieri al governo un piano ospedaliero rimodulato sulla base delle esigenze proposteci dal governo nazionale il nuovo piano ospedaliero campano prevede 837 posti di terapia intensiva raddoppiamo quasi che nessun imbecille ci venga a dire che poi sono vuoti la programmazione delle terapie intensive la si fa quando non ci sono i malati intubati non quando li hai e agli ospedali ingolfati 406 posti di semi intensiva e avremo reparti dedicati o ospedali dedicati al covid in maniera tale che possa partire l'attività ordinaria agli ospedali senza nessun problema ma in ogni caso in previsione neanche di peggioramenti della situazione epidemica ci siamo dotati di 1100 posti da riservare al covid cioè quasi il doppio dei posti letto utilizzati nei mesi scorsi quando c'era il picco di epidemia in campagna cioè ci stiamo preparando rispetto all'ipotesi pessimistica che ci viene dai virologi dagli epidemiologi poi tutti quanti ci auguriamo di non avere ritorni non avere nuove tragedie ma il modo migliore per non avere tragedie è di prepararsi a combatterle sconfiggerle all'inizio noi ci stiamo preparando per questo per non avere come è capitato da qualche altra parte d'Italia anziani che muoiono a migliaia non a centinaia a migliaia o pazienti rimasti per terra perché magari non c'era neanche un buco in una qualunque struttura ospedaliera e neanche un letto su cui poggiarli ci stiamo preparando a questo e stiamo come sempre lavorando con rigore con serietà al netto delle fesserie che non mancano e non mancheranno in queste settimane l'appello che rinnovo ai miei concittadini è di mantenere comportamenti responsabili io ho detto già da qualche settimana che in Italia sono saltati ormai tutti i controlli figuriamoci la festa ai tifosi non c'è più nessun controllo da nessuna parte l'unica possibilità di salvarci è che ogni cittadino sia responsabile di se stesso della propria famiglia e della propria comunità ci auguriamo che sia così come è stato nei mesi passati complessivamente tranne qualche squinternato ma nel complesso abbiamo registrato un grande senso di responsabilità dobbiamo continuare così poi vedrete che non solo andrà bene sul piano sanitario ma cominceremo a riprenderci anche sul piano economico nonostante gli stati generali e nonostante qualche somaro della politica a cui dovremo prepararci a dedicare un'attenzione pari a zero nelle prossime settimane cari amici comportamenti rigorosi mi raccomando un in bocca al lupo a tutti e un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie a tutti